Ci siamo amati, ci amiamo, ci ameremo sempre! Grazie per l'esempio e le risate! E grazie a voi anche da parte di mamma per l'incredibile quantità di affetto che ci state dimostrando! Diesis papà! Pierluigi Pardo, il giornalista, commentatore sportivo e conduttore di pressing e tiki-taka, colpito da un grave lutto Ha perso il padre, e lo ricorda così, con un post commovente su Instagram, e una vecchia foto che li mostra insieme Post che ovviamente è stato subito commentatissimo con centinaia e centinaia di messaggi di condoglianza e vicinanza da parte dei fan Leopardo, così si chiamava il papà di Pierluigi, era un colonnello, e in molti si ricordano di lui all'aeronautica militare Del suo rapporto con il padre, che è legato a molti ricordi sul calcio, il presentatore di tiki-taka, che è riservatissimo, non ha mai parlato molto Ma in una recente intervista rilasciata a rivista Studio, Pardo rivelava di come il suo padre, come tutti i padri del mondo, sognava per lui un futuro sicuro Sono stato fortunato, ai tempi del mio ingresso in Instagram lavoravo già in P.E.G., come assistant brand manager, raccontava Pierluigi nell'intervista Avevo uno stipendio da entry level, da pischello, ma era comunque un tempo indeterminato Strea mi ha assunto tenendo conto di questo, non mi sono trovato di fronte una scelta impossibile o economicamente svantaggiosa Insomma, non ho avuto la necessità di ricominciare da zero, punto poi ovviamente conta la passione, io non ne ho pensato neanche mezzo minuto alla possibilità di non accettare, continua il giornalista, perfino il mio capo in Profter conoscendo la passione per il giornalismo era d'accordo L'unico da convincere era mio padre, che per me pensava a una carriera da commercialista, o comunque nell'ambito economico A lui lasciare una multinazionale sembrava un azzardo. Per ora, fortunatamente, non lo è stato Con il padre, come detto, Pierluigi aveva un bellissimo rapporto. Ma al di là della carriera, essendo lui molto riservato, non si sa granché sul suo privato A ottobre del 2014 ha sposato Simona Galimberti, che ha un laboratorio di torte, ed è una cuoca provetta Al matrimonio erano presenti moltissimi VIP, tra cui il grande amico e i testimoni di lui Antonio Cassano, di cui Pardo ha scritto la buografia Dico Tutto Ma quest'anno, scrive il sito Donna Glamour, il settimanale Chi spifferà che Pardo, e la moglie si sarebbero separati per via dei troppi impegni di lavoro di lui A supporto di questa tesi, secondo le male lingue, l'assenza di foto di coppia da novembre 2017 sul profilo Instagram del giornalista sportivo . . . . . . .